Salve a tutti. Dopo molto tempo ho trovato un ritaglio di tempo per fare un altro video contro le dottrine dei testimoni di Geova. In questo video vorrei accennare al problema di come vengano trattate le donne nella setta geovista. Anche se non so se sono trattate peggio loro o la Bibbia. Il problema più grosso dei testimoni di Geova, secondo me, è che loro sono lateralisti e fondamentalisti, credono nell'infallibilità della Bibbia, credono che essa non possa contraddirsi mai in nessun punto. Per evitare di cadere in contraddizione è necessario creare un canone nel canone, cioè selezionare i passi che piacciono e ignorare gli altri, oppure cercare di armonizzare in qualche modo i passi biblici. Di solito i TDG propendono per la prima, soprattutto nella pubblicazione principale, cioè il libricino Cosa ci insegna la Bibbia, quello per lo studio dei futuri battezzati, l'arma più potente per il reclutamento. Ora non è il momento di analizzare il metodo esegetico, la cosa che mi interessa è mostrare l'ipocrisia, l'incoerenza e la contraddittorietà della dottrina geovista riguardo il ruolo della donna in chiesa. In perspicacia, alla voce ad un'ansia di congregazione interpretano le parole di Paolo nella prima lettera ai Corinzi in questo modo. Le donne potevano profetizzare, ovvero parlare in nome di Dio, solo con il capo coperto. Come specificato infatti alla voce il copricapo e la sottomissione della donna, questo copricapo serviva a mostrare come la donna fosse sottomessa all'autorità maschile, il quale uomo era sottomesso a Cristo e a Dio, e quindi così la donna mostrava di essere sottomessa a Dio, attraverso il velo. Voi però avete mai visto una donna testimone di Geova con un velo in testa? Io mai, né alle adonanze né durante il servizio, ovvero quando vanno a citofonare o distribuire riviste. La voce copricapo e sottomissione della donna continua dicendo che è naturale per una donna avere i capelli lunghi, cosa che secondo la stessa natura le distingue dagli uomini. Sappiamo che è proibito a un uomo testimone di Geova lasciare crescere i capelli, seguendo un'interpretazione letteralista di questo passo. Ci verrebbe da pensare che se sono letteralisti, così come proibiscono agli uomini di lasciare crescere i capelli, dovrebbero proibire alle donne di tagliarseli, perché Paolo in quel passo dice soprattutto questo. La donna se non può tagliare i capelli allora deve portare il velo. Pensateci bene, avete mai sentito di donne cacciate dalla setta per aver tagliato i capelli troppo corti? Io mai. Avete mai visto donne testimone di Geova, attive, proclamatrici, pioniere, che vanno alle adonanze regolarmente, con i capelli corti? Io sì. Due pesi e due misure, alle donne è permesso tagliare i capelli, ma agli uomini è proibito lasciarli crescere. Eppure si tratta degli stessi versetti. Qui il concetto di cannone nel cannone diventa pazzesco. Lo stesso versetto, in particolare, viene rigidamente applicato contro gli uomini e ignorato riguardo le donne. Tornando alla questione del velo, c'è un fatto curioso. Qui per spicacia cita un fatto extrabiblico, insolito direi, visto che stiamo parlando di testimone di Geova. Non solo, questo passo extrabiblico ci serve per collocare storicamente e culturalmente questo brano della Bibbia. Pare quindi che almeno questa volta i testimoni di Geova si siano resi conto che per capire la Bibbia sia necessario collocare i brani nel contesto storico-culturale. In particolare si spiega cosa significava per una donna essere rasata. Secondo l'articolo, le adultere e le fornicatrici venivano rasate, specie le schiave. Per questo essere rasate era visto come un disonore, per questo Paolo dice che per una donna non avere il velo è come essere rasate. Senza questa spiegazione, non si capisce il senso del versetto. Ma il resto della spiegazione è abbastanza ipocrita e ridicolo. Dice che il velo serve per la donna quando fa un ruolo che spetterebbe a un uomo. Ma allora fosse così basterebbe mettere il velo e poter ottenere gli stessi diritti degli uomini? Non esattamente. La pubblicazione dice che la donna, indossando il velo, può fare ciò che l'uomo può fare solo in caso di necessità o quando è accompagnata da un altro uomo, preferibilmente il marito. Oppure in un articolo di lunga W si dice che le donne possono essere ministro, ma non di culto, possono insegnare solo ad altre donne o fuori in ladunanza. Questo velo servirebbe per dimostrare che la donna non è alla pari ma sottomessa all'autorità dell'uomo, e quindi a Dio stesso. Ma quindi perché portare il velo? Qui, con mia ulteriore sorpresa, viene fatta un'ulteriore specificazione sul contesto culturale dell'epoca. Le donne di Corinto si coprivano la testa in pubblico, tranne le donne libertine, oltre che le sacerdotesse pagane. Un po' come se io andassi in giro in pigiama o come in spiaggia, ma per strada o a lavoro o in chiesa. Ma quindi il problema è risolto se il velo era un'indicazione che si riferiva alle usanze dell'epoca? Dobbiamo quindi applicare il messaggio dell'Apostolo Paolo considerando la differenza culturale tra lui e noi? Cioè, se per loro era osceno una donna senza velo in pubblico, magari per noi sarà osceno una donna che va in giro senza pantaloni, anche se le percezioni culturali possono davvero essere varie, per cui in certi contesti nemmeno la nudità integrale sarebbe tabù. Invece non è così, la pubblicazione ci tiene a specificare che questi secondo Paolo, sarebbero ordini per tutte le chiese di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Questi passi biblici letti nel contesto storico-culturale ci rivelano il vero significato del testo e quindi cosa noi dobbiamo applicare. Questo viene detto in perspicacia alla voce sorveglianti e servitori di ministero. Tornando alla voce precedente, riguardo le adunanze di congregazione, viene ribadito che le donne devono stare in silenzio e chiedere al marito a casa se avevano delle domande. Quindi le donne avrebbero potuto parlare e insegnare fuori dalla congregazione, ma non dentro. Anche se le donne non insegnano nelle adunanze dei TDG, comunque possono parlare e intervenire quando leggono e commentano le pubblicazioni ad uso interno, dopo essersi preparate a casa. Comunque, prima che iniziassero a fare i video che trovate nel sito ilunga www.org, quelli che vengono parodizzati su YouTube, le donne partecipavano a delle scenette nelle adunanze. Queste scenette o questi video che vengono proiettati durante le adunanze o gli eventi, a modo loro, insegnano qualcosa. Paradossalmente le donne si ritrovano ad insegnare oltre che a parlare in congregazione, cosa che sarebbe proibito dall'insegnamento geovista. Quindi il presunto divieto di parlare, rivolto alle donne, non viene rispettato dai testimoni di Geova. Mi piacerebbe affrontare anche l'argomento sul ministero femminile, ovvero sulle donne prete, pastore, diaconese e vescovo, ma per il momento è troppo complesso per me. Chiudo con una semplice domanda da fare a tutti coloro che credono che la Bibbia vada presa alla lettera senza considerare il contesto storico e culturale in cui fu scritta e che le interpretazioni sono tutti tradimenti della scrittura. Giustifichereste la schiavitù solo perché Paolo diceva ai servi di obbedire ai padroni, anche se sono malvagi, come se essi stessi fossero il Signore? Grazie. Grazie.